Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per traffico intenso, code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sulla A1 l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori. Sulla A12 segnalati materiali dispersi nel tratto tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Sulla corda autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sulla regionale Due Cassia per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.